Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video tutorial di Neve Cosmetics Oggi con me ci sarà Alice Non fatevi ingannare dalle apparenze perché Alice sembra molto 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 giovane ma in realtà ha superato di qualche anno la maggiore età e sarà proprio questo il focus del tutorial di oggi quindi come faccio a dimostrare l'età che ho? Che trucco posso fare se devo uscire la sera per far sì che non mi chiedano la carta d'identità? Vi lascio al tutorial Ed ecco la nostra super modella di oggi la bellissima Alice prima struccata e poi voilà a fine trucco Adesso potrà dimostrare davvero l'età che ha e magari non le chiederanno più la carta d'identità se uscirà la sera Per una base radiose naturale applico il fondotinta cream to serum shakerandolo sempre molto bene Prelevo la quantità di fondotinta che mi serve mettendola direttamente sul pennello crystal flat Per evitare troppo prodotto su una sola zona distribuisco il prodotto uniformemente creando dei puntini su tutto il viso Dopodiché inizio a lavorare il fondotinta con movimenti circolari stendendolo bene È il momento del correttore che prelevo estendo con il crystal concealer È un pennello perfetto perché è piatto e a punta con setole particolarmente flessibili che garantiscono un'applicazione precisa Il ristretto lo tampono e poi lo sfumo prima nella zona pericolare successivamente nella zona mentoniera e anche sulla palpebra mobile non solo andrà a tonalizzare ma sarà perfetto anche come primer Setto tutto con la cipria e per questo bell'incarnato dorato ho scelto l'alabaster touch La applico con il pennello lilac powder e la stendo su tutto il viso Questa cipria è impalpabile e trasparentissima Il suo delicato sottotono caldo contrasta la pelle spenta donando un finish sano e vellutato Guardate che base perfetta con tre soli prodotti Brow Model per disciplinare le stupende sopracciglia folte della nostra modella ed è anche il prodotto perfetto per riempire e fissare Io in questo caso vado a pittinare le sopracciglia verso l'alto partendo dall'inizio dell'arcata per poi seguire il suo disegno naturale Ecco Shadow, uno dei due prodotti di ombra luce Ne metto un pochino nel tappo e con il pennello blue contour inizio a delineare i volumi del viso della nostra modella Parto quasi all'attaccatura dei capelli e con piccoli movimenti inizio a sfumare il colore Lo trovo davvero incantevole È una terra opaca, neutra, perfetta per creare volumi naturali Se volete un effetto più deciso non bisogna far altro che aggiungere prodotto e sfumarlo come sempre con un pochino di pazienza per ottenere il risultato desiderato E dopo il viso uso il prodotto con il teal blending per tonalizzare la palpebra In questo video andremo a creare un trucco più strutturato ma questo prodotto per tutti i giorni è davvero perfetto Come potete vedere lo sto andando a sfumare tra la fine della palpebra mobile e l'inizio della palpebra fissa cercando appunto di sfumarlo verso l'esterno e verso l'interno Guardate come rimane naturale ma davvero elegante E adesso iniziamo a giocare con i colori Ecco la pastelocchi Enigma Con lei creo dei piccoli trattini all'attaccatura della rima cigliare superiore come se dovessi insomma andare a disegnare una sorta di eyeliner Unita di Yellow Liner inizio a sfumare la riga che ho fatto La sfumo verso l'interno e verso l'esterno L'importante a questo punto è non aver più una linea netta Ecco la differenza tra una linea sfumata e una no E grazie al pigmento minerale Camden Town inizio a fissare appunto la pastella che ho sfumato in precedenza Grazie all'aiuto di Yellow Liner con un tratto così preciso e sottile ho la possibilità di applicare il pigmento minerale senza creare troppo fallout Vedete che io quasi sto picchiettando il prodotto proprio per andare a fermare e a fissare sia la pastella appunto che il pigmento Riprendiamo il blending e risfumiamo tutto quanto Quindi di nuovo il concetto è sì una linea grafica ma non troppo definita E adesso arriva il segreto per come creare questo trucco wow da copertina Ho fatto semplicemente aprire gli occhi ad Alice e il blu si è leggermente stampato sulla palpebra fissa lasciandomi un piccolo segno guida Con lo Yellow Liner non ho fatto altro che unirlo alla codina finale Ho controllato che su entrambi gli occhi fosse simmetrico ed ho sfumato Se volete provare a casa vi consiglio di farlo senza aggiungere ombretto sul pennello ma di utilizzarlo con il colore che aveva in precedenza è sempre meglio aggiungere perché partire subito con troppo colore può creare macchia Rose Angled Pennello da sfumatura angolato perfetto per fare questo tipo di lavoro Vedete che sto sfumando nella parte finale appunto nell'angolino che abbiamo creato di nuovo per rendere il trucco armonioso e non troppo grafico e lo sto sfumando verso l'interno e verso l'esterno Eco Light del Duo Ombra Luce una polvere trasparente super illuminante ne vado ad applicare un pochino sul tappo e con il pennello Crystal Shader la vado ad applicare esattamente dove abbiamo lasciato tra virgolette lo spazio vuoto quindi dove non abbiamo messo nessun tipo di ombretto munite di magenta sculpt adesso vado ad applicare Light come illuminante nella zona zigomatica l'effetto secondo me è sublime e io so di essere di parte perché questo prodotto lo adoro ma è davvero trasversale e super meraviglioso per rendere l'occhio un pochino più interessante prendo Constellation e la vado ad applicare solo nella rima cigliare superiore proprio all'attaccatura delle ciglia come se volessi appunto intensificare lo sguardo e per concludere in bellezza ecco lui, la Shackademy lo vado ad applicare sia nella rima cigliare superiore che nella rima cigliare inferiore e grazie al suo scovolino così piccolo e così preciso ho la possibilità di definire al meglio le ciglia per un effetto ciglia finte e super allungate con un trucco occhi così importante ho pensato a un rossetto decisamente più nude e quindi ho deciso di utilizzare birthday cake un nude nocciola chiaro caldo con sottotono ambrato che vado a stendere con il green detail ed ecco il look finito questa è Alice in tutto il suo splendore e spero che il trucco vi sia piaciuto per poterlo ripetere e adesso vi faccio un recap di tutti i prodotti che ho utilizzato per il make up di Alice cream to serum foundation nella colorazione medium warm ristretto concealer nella colorazione light alabaster touch brow model Lisboa i miei amatissimi ombra luce duo contouring pastello occhi enigma e constellations camden town e birthday cake spero che il video vi sia piaciuto se ci sono dubbi o domande scriveteci vi mando un super bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao